il signore sia con voi dal vangelo secondo matteo in quel tempo gli undici discepoli andarono in galilea sul monte che gesù aveva loro fissato quando lo videro li si prostrano innanzi alcuni però dubitavano e gesù avvicinato si disse loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni battezzandole nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo parola del signore questa finale di matteo invece di chiudere la predicazione di gesù e la sua amicizia con i suoi discepoli gli apostoli apre una prospettiva grandissima perché perché è un mandato invio ad ammaestrare tutti e dice gesù nel nome del padre del figlio e dello spirito dunque a chi avesse ancora il sospetto come pensano spesso altre religioni che la trinità sia un politeismo si accorgerà presto invece che questa è la volontà di cristo che unifica in sé ogni cosa siccome però potre potremmo anche dire che la nostra mente non ci aiuta a capirle queste cose allora entriamoci da un'altra parte entriamoci dalla parte dello spirito per l'appunto che è lui che convince il mondo quanto al peccato la giustizia al giudizio ma convince anche il nostro cuore e la nostra mente alla comprensione del mistero allora ci entreremo per una via di contemplazione per una via mistica e io credo che se la chiesa ha messo ha pensato di offrirci la la devozione alla trinità santissima dopo la pentecoste è perché senza la pentecoste nessuno può attingere a questo mistero non è un mistero ragionevole solamente è un mistero che si può contemplare adesso andiamo a guardare mi dispiace che non siano state scelte per questa prestia altre letture una in particolare la seconda lettera corinzi che dice che no che il mistero nascosto dai secoli noi l'abbiamo conosciuto un mistero che la mente umana non ha la capacità di comprendere quando diciamo questo quando guardiamo la realtà creata ci accorgiamo che è molteplici è ricca è piena di cose meravigliose la scienza ancora investica e trova ancora e ancora e ancora e anche quando incontra la contraddizione della malattia quella che noi abbiamo vissuto in questi anni in questo anno due anni di pandemia anche quando incontra la contraddizione la scienza ancora penetra il libro della sapienza dice che questa scienza in realtà c'è data dalla sapienza di dio quella stessa sapienza che ha permesso a tutte le cose di essere create chiamate all'esistenza e diventi ed essere messe in relazione all'intelligenza e dalla umiltà dell'uomo dunque la scienza così procede e scopre sempre cose nuove guai a quello che prendesse la scienza per dire ci ha detto già abbastanza non può dirci di più ci fidiamo di questo e basta se la scienza ci apre una conoscenza ulteriore vuol dire che la finalità della scienza non è quella di pesare la materia ma di mi scandalizzo con questo ma di incontrare lo spirito quello stesso spirito che presiedeva alla creazione che aleggiava sulle acque in forme all'inizio del progetto di dio e questa sapienza diranno le altre filosofie diranno gli altri modi di pensare questa sapienza te la devi conquistare andandola a cercare con difficoltà impegnandoti molto con la mente conoscendo molte cose forse studiando molto così sono le sapienze del mondo sono cose che si possono attingere con sforzo con fatica e non tutti ci arrivano no non è questa la sapienza di cui parliamo noi questa sapienza nascosta ha potuto manifestarsi a noi sai perché perché tu hai anche nella tua semplicità pure nel tuo peccato tu hai una sede per questa sapienza tu hai un luogo che è fatto apposta per attingere a questa sapienza si dirai che non te ne sei accorto che le cose della vita che i pensieri le preoccupazioni pensa quello che vuoi ma una cosa la devi confessare però hai una nostalgia che non è quella del passato hai una nostalgia paradossale del futuro hai una nostalgia di qualcosa che non hai mai visto che non hai mai conosciuto eppure questa nostalgia brucia all'interno della tua vita e evoca costantemente la possibilità di incontrare come direbbe qualcuno l'inatteso cioè incontrare uno che è diverso dalle immagini che hai ricevuto che è diverso dall'idea che la gente si è fatta uno che è sempre sorprendente e sai perché sorprendente perché portando in sé qualcosa di dio dio egli stesso porta pure la tua faccia dunque quando le incontri sei sorpreso da questa presenza hai capito che questo desiderio del cielo non è un desiderio di di angioletti e di non so chi di spiriti puoi questo desiderio del cielo è calato nella realtà dell'uomo e un dio uomo è venuto a raccontarcelo per dire a ciascuno fermati guarda che cosa porti dentro hai la malattia te la tolgo hai un problema te la tolgo non riesci a vedere ti do la vista non l'hai mai visto io ti creo gli occhi per vedere per vedere che i soli che girano no per vedere un amore di dio che tutte le volte che ti raggiunge risuona con una corda profonda che tu possiedi capisci tu la possiedi sai cosa vuol dire e qua ti scandalizzo ancora tu possiedi dio tu possiedi non sto esagerando sai se io esagerassi allora ditemi voi con quale animo potrei darvi tra poco il corpo di cristo a chi vi ha il corpo di cristo e qua non vada tutte quelle sciocchezze nelle mani non nelle mani solo nella bocca e tutte le altre cose inutili paziosa il corpo di cristo raggiunge te raggiunge te e se tu sei disposto a tentare relazione con lui veramente egli ti mostrerà l'amore trinitario quell'amore trinitario quella relazione che è di dio che è scritta pure nel tatua con una cifra profonda del tuo essere e che desidera finalmente ricostruirsi dice san paolo in quella lettera ai corinzi dice ma il mondo questa cosa non l'ha conosciuta tu gli parli di queste cose il mondo non capisce ride pure quando gliele dici è vero però quel mondo sta ancora facendo allora facendo una lotta improvvida ancora è diviso ancora sta facendo rivoluzioni ancora odia si vendica sfrutta prevarica con tutti i mezzi che ha ci guarda sbeffeggiandoci ci guarda beffardamente perché ci chiama così idolatri chi lo sa fantasiosi non la capisce però vive in questa difficoltà noi no anche se andiamo incontro a tante difficoltà personali relazionali con gli altri il desiderio di ricostruire l'unità lo portiamo dentro ed è più forte di ogni odio è più forte di ogni rancore pure se tu fossi proprio completamente ferito portato via da un qualcosa che ti ha fatto male rimane in te il desiderio di riparare di ricostruire di guarire di guardare al cielo con un cuore riconciliato ed è per questo che noi quando entriamo in chiesa entriamo dispersi entriamo con le nostre paure le nostre difficoltà tutte le nostre frammentazioni come entriamo troviamo una porta che guarda al padre vede il figlio che possiede lo spirito e questa porta ci ricorda subito che siamo subito che non siamo gente qualsiasi ci ricorda che noi portiamo l'amore di dio e quest'amore di dio non è né uno scudetto né un punto qualità quest'amore di dio come ci raggiunge subito desidera metterci in relazione è questo che guarisce il mondo questo allora io vorrei dirti cristiano siccome è questo che guarisce il mondo non ti metterà a fare le guerre con nessuno ma neanche le guerre di religione perché chi fa le guerre di religione oggi è un fazioso guarda i propri interessi non ha la fede nell'amore trinitario solo vuole lottare con qualcuno porta con te l'amitezza la pace il senso di giustizia l'amore profondo la delicatezza che la sapienza incarnata consegna alla tua vita e gli altri e gli altri lo vedranno forse non lo vedranno questa generazione ma lo sperimenteranno e noi questo tesoro di amai figli non la morale la si sono stufati di sentire i nostri moralismi poi alla fine pure noi non è che siamo si sono stufati non vengono più ammessa per sentire moralismo vogliono sapere che cosa portano dentro e come mai quel desiderio irrefrenabile che qualche volta li porta al male come mai pure nel male non è mai compiuto e desidera ancora evocare il bene in qualche modo anche scimmiottandolo non sarai tu a dirglielo perché non gli dirai tu ai tuoi figli ai tuoi nipoti questo desiderio non è un desiderio di piacere questo desiderio è un desiderio di bene il mondo andrà per la sua strada il mondo farà le sue scelte lo farà pensando di esaltare la libertà tu guardalo guardalo con pazienza noi siamo nella purificazione cari fratelli guardalo senza giudicarlo non aver paura dice san paolo le lettere romane stamattina abbiamo ascoltato noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per restare nella paura e fare la lotta contro tutti come fanno i paurosi noi abbiamo ricevuto lo spirito di figli e allora se abbiamo ricevuto lo spirito di figli comportiamoci da figli liberi questo mondo ci viene contro con le sue leggi e noi sopporteremo per cristo perché sappiamo che dio ci ha amati quando eravamo peccatori forse la cosa che ci fa più paura non è che il mondo si prenda qualche cosa in cui crediamo ma che ci metta in difficoltà e ci faccia rientrare nel martirio ma il martirio è esattamente quello che tu mangi tutte le volte che viene ammessa dal sangue di cristo e il sangue dei martiri è quello che dà la vita la tua vita ricordatelo questo e se la chiesa sarà martire che sia martire ma per il ma per il signore per l'amore e per la riconciliazione non per i partiti politici o per le fazioni non so cosa chiusa la parentesi di una polemica che forse non ci voleva torniamo a respirare la bellezza di questo mistero oggi ti è donato quello della trinità oggi ti è regalato e lo spirito comincia da oggi a insegnare al tuo spirito chi sei veramente e dove stai andando perciò abbi pazienza gradualmente accogli finché Dio non voglia manifestare la sua volontà sulla tua vita alla lode e gloria del suo nome sia lodato Gesù Cristo Padre santo e misericordioso la presenza del tuo spirito nella chiesa ci ricorda che tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te la presenza del tuo figlio in mezzo a noi ci mostra la via per tornare alla comunione con te tu non disdegnare le nostre suppliche a darci la possibilità di conoscerti di incontrarti e di adorarti per questo ti preghiamo Padre santo e misericordioso ti preghiamo per il papa e per tutta la chiesa mettila al riparo dalle divisioni dalle polemiche da ogni lotta che è attenta all'unità della chiesa guarda con misericordia agli uomini sballottati da molte idee diverse riconduscili al tuo vile per questo ti preghiamo Padre santo e misericordioso ti chiediamo perdono perché in questo passaggio della fede a questa generazione noi non siamo stati fedeli abbiamo tradito in molti modi anche la nostra mediocrità ci accusa dacci la possibilità di riparare facci incontrare gli uomini bisognosi permetti che possiamo colmare il loro desiderio per questo ti preghiamo Padre santo e misericordioso ti preghiamo per gli uomini che non sanno di essere stati salvati inabitati dallo spirito e vivono ancora nella paura e si lamentano e gemono e talvolta imprecano ricorda loro che li hai chiamati alla salvezza mostra loro il volto del tuo figlio per questo ti preghiamo ti prego Padre santo e misericordioso per questi tuoi figli tu conosci i loro cuori ne scruti i pensieri sai dove originano i loro timori sai dove nascono le loro difficoltà li conosci nella loro dimensione di peccato sai anche qual è il desiderio profondo che portano in sé mettili a riparo dei pensieri cattivi guariscili da ogni malattia guariscili dal maligno e da ogni maleficio possano tornare come la Vergine Maria Immacolata ad attendere il ritorno del tuo figlio in pace, nella fede, nella carità te lo chiedo per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi e con il tuo figlio dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato quando lo videro gli si prostarono innanzi alcuni però dubitavano e Gesù avvicinato si disse loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo parola del Signore un mistero nascosto dai secoli così è definito il mistero trinitario la Chiesa poi ne ha evidenziato anche una dimensione prescrittiva stabile un dogma insomma al quale siamo tutti tenuti a credere ma quando la teologia riflette sul mistero trinitario dobbiamo dirlo usa una terminologia e dei ragionamenti che voi direste sono un po' difficili non sono un po' difficili sono molto difficili e tuttavia portano in sé una semplicità che ci sconcerta che ci disarma e che alimenta in noi anche un desiderio nuovo di relazionarci con questo mistero beh San Paolo in questa Lettere Romani bellissimo capitolo 8 della Lettere Romani in cui riflette sulla presenza dello Spirito e sulla sua azione ci mette davanti una prima evidenza davanti alla quale tutti noi penso possiamo consentire dice che quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio cioè quelli che guardano le cose della storia non solo in modo meccanico e che ne so io come diciamo noi qualche volta con un po' di presunzione scientifico ma si accorgono che nella storia è nascosto un segreto un segreto desiderio di relazione costoro sanno di non essere guidati solo dall'evidenza dei fatti ma sanno di essere anche sostenuti o spinti addirittura dall'interno da qualcosa che è più grande che trascende come si suol dire e dice San Paolo nella fattispecie voi non solo avete ricevuto la possibilità di riconoscere questa relazione se siete figli è chiaro che avete un padre dunque capite che la relazione sta al centro della vostra ricerca e alla fine dei vostri sforzi ma voi ve lo annuncio avete ricevuto uno spirito di figli adottivi e questo spirito non vi permette di tornare nella paura dove stavate prima nel buio nella realtà oscura dentro la quale giudicavate male le cose avevate paura di ogni evento di ogni fatto prima di tutto della morte questo spirito che vi è stato donato vi dà la possibilità di chiamare Dio Padre questo è il grande mistero abbiamo ricevuto non uno spirito da schiavi come tutte le religiosità naturali abbiamo ricevuto uno spirito di figli ma chi ce l'ha detto che questo era uno spirito di figli c'era bisogno che un figlio venisse fino a noi e ci guardasse e ci convincesse con gli occhi di un uomo come noi che noi vedessimo in lui non solo l'affezione la disponibilità la dolcezza di cuore dell'altro che sempre desideriamo incontrare ma chi vi vedessimo anche il perdono dei nostri peccati il sostegno delle nostre infermità la parola certa nei momenti di oscurità della vita e se questo non fosse bastato questo figlio che ci ha guardato con quello sguardo di cui dicevamo ci ha fatto comprendere che la nostra vocazione ad avere una relazione è più alta di quello che pensavamo non basta la relazione che tu vorresti avere con il tuo vicino con il tuo prossimo qualche volta anche solo per sfruttarlo per usarlo a tuo piacimento no questa relazione ti permette di amare l'inamabile ti permette di sostenere la debolezza di chi ha intorno perché capisci che ha bisogno di te costui quando ci ha aperto il cuore ci ha fatto conoscere che chi lo ha mandato ci ha amato quando eravamo peccatori dunque chi lo ha mandato il suo padre ci ha conosciuto dentro le difficoltà della nostra vita dentro le incongruenze quelle che generalmente noi nascondiamo lui le conosce e conoscendole non si è approfittato di questo ma ci ha mandato una logica comprensibile il volto del suo figlio quando l'abbiamo incontrato abbiamo detto ma questo è semplice costui ci ama se ci ama vuol dire che c'è qualcosa in noi che è degno di essere amato e ci ha fatto conoscere anche che questo qualcosa in noi che è degno di essere amato non viene da noi viene da chi ci ha chiamati all'esistenza allora sta a vedere che costui viene come un buon pastore viene come uno che viene a riprendersi il suo e riprendendo noi in questo ovile ci arricchisce delle sue grazie questo Paolo diceva in quel brano che abbiamo ascoltato che la presenza di questo figlio ci fa capire che siamo eredi di Dio tu hai capito eredi di Dio ma tu ce l'avrai un'eredità una idea dell'eredità anche se l'eredità non l'hai avuta ce l'hai combatti con tua cognata sempre per questa eredità lo sai che c'è un'eredità e l'eredità che cosa ti consegna quello che era di tuo padre di tuo nonno e quando te lo consegna se è una ricchezza ingente come diventi tu ricco come tuo nonno ebbene sappi che questo figlio ci ha fatto ereditare nello spirito di Dio che cosa? la divinità e dice Paolo che noi siamo diventati eredi di Dio e coeredi di Cristo coeredi di Cristo ma ce l'avrai al centro della tua esistenza un languore così forte una nostalgia così irriducibile che ti fa capire che tu non pensi alla vita dopo la morte perché hai bisogno di credere in qualche cosa ma che questo desiderio affonda le radici dentro la tua stessa realtà umana ebbene uno è venuto a dirti come si chiama questa si chiama figliolanza tu sei fatto per la relazione e non hai pace finché questa relazione non la ricostruisci e perché tu possa imparare che cos'è questa relazione incomprensibile tra il padre il figlio e lo spirito prima ancora che venga la teologia o la filosofia dirtelo hai una scuola davanti ai tuoi occhi hai la famiglia hai il tuo prossimo hai la società hai il mondo in cui sei chiamato ad agire da figlio e non da da padrono per questo Gesù in questo brano di Matteo guardate con semplicità proprio in poche righe dice dopo che stavano là a decidere ma sarà lui o non sarà lui perché era morto si è risorto ma non si capisce non si riconosce perché tu lo riconosci sempre Gesù nella storia che vivi no lo sai chi è te l'hanno detto te l'hanno raccontato più o meno te ne sei fatta un'immagine forse c'hai l'immaginetta di Gesù misericordioso poi esci fuori nel mondo vedi il tuo prossimo non ha questi tratti e lo odi lo disprezzi e lo allontani come fai a ricordarti che è figlio di Dio pure lui Gesù passa sopra questo dubbio degli apostoli che dubitavano e si avvicina dice Gesù avvicinato siccome si è avvicinato quando è disceso dal Padre per venirci a raccogliere dicendo sappiatelo mi è stato dato potere in cielo e in terra tutte le cose difficili di lassù io le ho tradotte nella semplicità dei vostri sguardi tutti i vostri desideri che non capite io li ho riportati davanti al Padre dunque non c'è più niente che sia escluso da questa morte dunque dice Gesù andate e ammaestrate tutte le nazioni battezzandole in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sai cosa vuol dire? vuol dire che dovunque vai tu riporti la relazione trinitaria come logica della relazione tra gli uomini li battezzi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo non solo perché fai il sacramento ma perché gli ricordi che tutto quello che portano dentro appartiene a Dio e in Dio troverà la sua gioia e la sua felicità tu vai con questo schema nel cuore e nella mente perché tutti sappiano che la relazione salva il mondo la relazione viene da Dio per gli uomini è una ricchezza e un dramma tu insegna gli uomini a vivere secondo questa relazione troveranno il Padre perché lo Spirito gli è stato già consegnato lo vedranno negli occhi del Figlio quindi negli occhi di ogni uomo perché là il Padre desidera manifestarsi e dopo aver detto questo andandosene da loro tornando in cielo dal Padre dice io però resterò con voi in ogni tempo fino alla fine anche con te resterà fino alla fine della tua vita e alla fine della storia finché Dio non sia tutto in tutti sia lodato Gesù Cristo Padre Santo e Misericordioso creandoci a tua immagine e somiglianza hai impresso in noi il desiderio di conoscerti la gioia di incontrarti la possibilità di condividere questo amore con tutti quelli che tu hai pensato e chiamato all'esistenza ma noi tante volte ci siamo ritratti abbiamo provato difficoltà ad amare il prossimo non abbiamo seguito le vie del tuo Figlio vieni incontro ora a questa nostra debolezza allo Spirito Santo susciti in noi la preghiera il tuo Figlio la porti fino a te e tu possa esaudirla per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa difendila da quelli che vogliono sovvertire quest'ordine da quelli che vogliono dividerla che l'accusano ogni giorno che sono polemici che non accettano questa logica che tu hai inaugurato in questo tempo della Chiesa metti a riparo anche noi dai loro strali dal loro odio dal loro disprezzo per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso anche noi siamo stati animati da un desiderio irrefrenabile di conoscerti e di amarti con tutto il cuore con tutta la mente e con tutte le forze perdona tutte quelle occasioni in cui non abbiamo testimoniato il tuo amore perdonaci per la nostra mediocrità per la paura che abbiamo di affrontare la vita perché non abbiamo saputo riconciliarci con il prossimo dacci la possibilità di riparare in questo tempo che il mondo sappia e creda nella parola del tuo figlio per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso ti affidiamo agli uomini di questa generazione quelli che conosciamo quelli che stanno soffrendo la malattia che hanno paura della morte quelli che vivono realtà disgregate e divise nelle loro famiglie tutti quelli che hanno vissuto l'abbandono da parte dei loro cari o la perdita dei congiunti possano guardare attraverso il volto del tuo figlio al tuo amore fiduciosi un giorno di tentare pienamente in questa comunione per questo ti preghiamo Padre Santo e Misericordioso ora ti prego per questi tuoi figli tu conosci il loro cuore scruti i loro pensieri sai di che cosa hanno bisogno sai cosa può onorare le loro unioni vieni in soccorso alla loro debolezza risanali rialzali perdonali mettili a riparo dal pensiero cattivo da ogni insidia del maligno guariscili da ogni malattia e da ogni maleficio te lo chiedo Padre Santo e Misericordioso per il sacrificio del tuo figlio per la presenza del tuo spirito che sempre eleva la nostra preghiera fino a te per Cristo nostro Signore amén amén Il presidium confugimus, santa dei genitris, nostras deprecazioni ne despiciassi necessitatimus, se da pericoli sconti liberano sempre.